Marito e moglie, non c'avevano una lira, stavano a patire la fame, a un certo punto lei gli fa senti a frà, io mi butto sulla strada, mi prostituisco perché non si può andare avanti così, diciamo manchi i soldi per comprare un litro di latte, e il marito gli dicevo, vabbè, se te va bene a te, eh certo, però sono un po' impacciata, lo devo ammettere, non mi ricordo i prezzi, non mi ricordo come si fa, che ne so. Cioè, vabbè, ma non ti preoccupare, ce sto io, mi metto dietro a cespuglio, ti suggerisco io, no? Vabbè, namo, queste la sera partono, si fermano su marciapiede, il marito si nasconde dietro a cespuglio, si ferma la prima macchina. Ah, bella, quanto vuoi? Questa, eh, a frà, questo mi ha detto quanto voglio, e ti hai 30 bocca, eh, io mi prendo 30 di bocca. Ah, io c'ho solo 5 euro, eh, a frà, questo mi sta a dire che c'ha solo 5 euro, e tu dì che per 5 euro io lo puoi solo guardare, eh, guardi, io per 5 euro glielo posso soltanto guardare. Vabbè, gli dai 5 euro, se sbottona, tira fuori una mazza di 40 centimetri, quella stava lì al finestrino, oh, guarda. Ah, fra, non è che ci avresti 25 euro da impresaie?